ragazzi buongiorno è mezzanotte qui il vostro bombaio che vi saluta e vi augura tante buone feste tanto buon natale e tanta felicità e soprattutto passatelo veramente bene con i vostri familiari faccio questo piccolissimo video perché voglio spiegarvi un po come stanno le cose come avete ben visto da circa dieci giorni praticamente salvo la live fatta durante il torneo di counter strike global offensive insieme a trig a padova non ho fatto altre live una sporadia così vi spiego perché ho voluto prendere un attimo di pausa perché sono molto preso con il lavoro da promoter mi ha occupato praticamente tutti i fini settimane di questo ultimo mese cosa che mi va molto bene perché comunque mi ha provato a casa almeno sui 550 600 euro questo mese quindi va un po meglio e sono impegnato soprattutto con le modifiche del canale con il sito con altre altre cose molto presto passeremo ad essere da semplice community a associazione sportiva dell'etantistica e questo comporterà dei doveri maggiori nei miei per quanto mi riguarda nei confronti sia del canale che della community che soprattutto di voi che mi seguite avremo la possibilità quindi con questo di avere di mettere dei premi maggiori con valore maggiore per quanto riguarda i giveaway e i vari eventi che faremo online e all'anno ovviamente in più stiamo passando per il server di tspec come avete visto è scomparso non c'è più l'abbiamo annullato non abbiamo rinnovato perché passiamo da un server normale a una vps molto più potente molto maggiore che ci costa un bel più di soldi all'anno però da molte più soddisfazioni anche perché insieme a questa vps potremmo gestire registrare gestire dei server di counter strike global offensive e anche di altro ovviamente le live ripartiranno lunedì sporadicamente durante le feste ovviamente prevalentemente la sera ci sarà un ghi una specie di diciamo premio natalizio una specie di giveaway natalizio questa gatta qua prima o poi me la fucile ragazzi non vuolotta ci sarà una specie di premio natalizio il giorno dopo natale quindi natale domenica sarà l'aspetto natale domenica non mi ricordo oggi è il 24 ed è sabato no adesso è domenica se non sbaglio un attimo ragazzi non mi ricordo che giorno è oggi vediamo 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 oh è domenica quindi natale è lunedì martedì martedì o anche forse lunedì sera dipende da dipende da quanto stanco sarò dopo aver fatto natale con la mia famiglia comunque o il natale sera quindi o il 25 di sera o il 26 probabilmente il 26 pomeriggio tardi vediamo verso le 5 ci sarà un giveaway natalizio qualcosa di leggero un giochettino così con intenzione di regalare a voi che mi seguite ci sarà poi un evento il film a fine anno una live a fine anno molto importante e con evento speciale a luna dell'uno quindi a capodanno dove farò darò un altro giveaway un altro giochino a voi che mi seguite quindi da gennaio si apre si parterà con l'associazione sportiva di retentistica short gaming con tante altre cose tante belle novità il team speak spostato su una WPS con il server di Counter Strike Open Offensive ufficialmente aperti dopo la metà di gennaio e una specie di calendario degli eventi online e online niente ragazzi rimanete sintonizzati anche perché ci saranno molte novità tra cui anche apriremo lo store di short gaming ufficialmente avendo la sede potremo farlo e vedremo un attimo che tipo di product placement faremo di tastiere mouse insomma periferiche da gaming per voi ragazzi qui è tutto da parte di bio qui ho i gatti che si stanno ovviamente scannando qui dietro qui è tutto da parte di bio da parte di short gaming e mi raccomando sempre buone feste buon natale buona fine buon principio e mi raccomando ragazzi siate sempre positivi contenti e sorridenti un bacione ciao ciao